Settembre è ancora lontano, ma le elezioni sono più vicine che mai, visto il toto candidature per il Partito Democratico, il Bivio e Agnano. Sabato e domenica, alla presenza di tre ministri dello Stato, Maggiore Campano del PD, la conferenza programmatica incoronerà De Luca, candidato governatore. Sarà l'occasione per definire anche i criteri di chi entrerà nelle liste ufficiali del partito e chi invece troverà spazio nelle civiche d'appoggio. A livello Campano fa già discutere l'individuazione della capolista Mobilio su Pozzuoli, che da tre anni dichiara non essere iscritta al PD, pur avendo continuato a votarlo e a impegnarsi per il partito. Questioni di lana caprina, ma non per i puristi dem. Nelle file del centrosinistra, sempre più consiglieri ex forzisti sembrano spostarsi in Italia viva a cade in terra partenopea. In Irpinia il quadro è tutt'altro che definito, nel PD troppi uomini e poche donne, il cerchio non si chiude, tutt'altro che definita la situazione anche in Forza Italia. La squadra dovrebbe vedere nell'ex sindaco di Prato la Serra, a Ofiero, l'uomo di punta. Non sembra invece concretamente interessata alla partita delle candidature l'ex sindaco di Contrada del Gaizo, ma di tempo ce n'è per riflettere. Il Movimento 5 Stelle, che ha invece definito le liste a sostegno della Ciarambino, presenterà a Napoli domani tutti i candidati prima del via ai tour provinciali. Anche nella lega, al di là dell'apparente armonia, si registrano più pretendenti di quanti siano i posti disponibili.